Il fenomeno dei festini abusivi all'epoca del Covid a Milano ormai è all'ordine del giorno, l'ultimo dopo le numerose segnalazioni del weekend, è avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 marzo quando gli agenti della Questura di Milano hanno scoperto un party illegale in un appartamento in pieno centro, in via Baracchini, da dove provenivano musica e schiamazzi. Ad avvertire le forze dell'ordine un residente della zona che intorno alle 2.30 del mattino ha chiamato il 112, subito sul posto sono arrivati i poliziotti che una volta sentita la musica ad alto volume già dalla strada hanno deciso di intervenire. All'interno dell'appartamento gli agenti hanno trovato 13 persone tra i 20 e i 27 anni che sono stati tutti identificati e sanzionati con una multa da 400 euro. Da ulteriori accertamenti i poliziotti hanno scoperto che l'appartamento era stato preso in affitto per una settimana da colui che avrebbe poi organizzato la festa. I partecipanti erano di diversa provenienza, alcuni italiani, altri sudamericani, nordafricani e un lituano, la maggior parte residenti tra Milano e Bergamo, altri invece arrivavano dalla Liguria.